Sì, sono finalmente arrivato al parco giochi, che bello, signore, le ho contento, è contento, signore, 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 certo che sono strani qua, signore, insomma, sono un po' strani, ma io sicuramente mi divertirò in questo parco giochi, è bellissimo, mamma mia, è bellissimo, guardate qua, cosa, questo è, eh? Non ho capito, non so, c'è scritto una cosa strana, guardate qua, oh porca miseria, che bello, no vabbè, bellissimo, devo scavalcare, no, non si può scavalcare, come faccio ad andare? Come faccio a mettermi in fila? Posso andare? Sì, ah, stupido, oddio che bello, wow, guarda, oh mio Dio, è bellissimo, è bellissimo, voglio vivere in questo parco, Per sempre, basta, voglio andare a provare altre giostre, cosa c'è là? Lì cosa c'è? Cosa hanno visto i miei occhi? Oh porca miseria, sì, signora, è contenta, ma se, perché, certo che sono strani in questo parco però, eh, sono proprio strani, secondo me hanno una specie di, sembrano tutti quanti controllati, vabbè, forse, forse è solo la mia immaginazione, Forse, forse non è vero, non sono controllati, dai, no, cioè, non sembra, cioè, anche se sono tutti fermi e non si muovono, sicuramente non sono controllati da qualche entità oscura, no, 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 certo che no, comunque, eh, andiamo a divertirci su questa giostra, mamma mia, eh, qua si entra da, che pa, eh, aspettate, perché voglio, ovviamente voglio saltare, mica sto qua a rompermi le, No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, partiamo, eh, cosa è successo? Ah, ci stiamo muovendo, ci stiamo muovendo, questa è tutta la mappa del parco, guardate il parco, è meraviglioso, è bellissimo, oh porca miseria, è bellissimo, oh, 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 ci siamo, ci siamo, ah, aiuto, Oh, aiuto, no, vabbè, no, no, per favore, no, no, aiuto, altro che Gardaland, no, scherzo, Gardaland è più bello, però anche questo è bellissimo, oh mio Dio, no, oh mio Dio, cadiamo giù, cadiamo, no, cadiamo giù, moriamo, per favore, aiuto, che paura, oh mio Dio, 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 è stato, è stato emozionante, è stato emozionante, basta, io voglio scendere da qua, oh mio Dio, Sono morto, basta, non voglio più farlo, cioè, nel senso, è stato bellissimo, eh, signora, lei ha mai provato questo coso, certo che sono proprio strani, però, eh, oh, cos'è stato questo rumore, ehi, ehi, no, sta diventando inquietante a questo parco, Io sono lo snowman cattivo, 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 e darò molto fastidio a Blood, va beh, dai, lasciamo perdere, chi se ne frega se ci sono rumori, io voglio fare altre giostre, allora, La mappa, magari qua c'è qualcosa Vediamo Oh mio dio, ma questa ruota non si Non gira però questa ruota Eh, scherzavo, gira Oddio, guardate là Oh wow, che bello Cos'è stato? Cos'è stato questo rumore? Cos'è stato? Cos'è stato? Cos'è stato? Cos'è stato? Cos'è stato? No, per favore Oh mio dio, è stato un rumore molto inquietante Non lo voglio più sentire Oh no, 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 basta, io me ne esco Ciao, addio, aiuto Avete sentito quel rumore? È stato orribile Eh, io sto volando per sbaglio, eh Non volevo, non volevo volare E che avevo tanta, talmente Tanta paura, che porca miseria Che paura, che paura Signore E questa dovrebbe essere l'attrazione Più bella del parco Questa qua, questa qua, blu E da dove che posso entrare? Ok, eccoci qua Adesso devo solamente entrare Dentro questo carrello Oh mio dio, mio dio, mio dio, mio dio Sì Anch'io ci sono con Dunis Lui non mi vede Ma io ci sono sempre Oh, ci siamo quasi Ci siamo quasi Ci siamo quasi Oh mio dio, oh mio dio, mio dio, mio dio, mio dio, mio dio, mio dio Mi sta facendo venire l'ansia Oh mio dio, mio dio, mio dio, mio dio, mio dio Dio, mio Dio, è troppo veloce, troppo veloce, troppo, 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 troppo. Oh mio Dio, sì. È bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, sì. Yuppie. Wow. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È stato... È stato traumatizzante, non lo voglio mai più fare. Oh, cos'è stato? Cos'è stata questa cosa? Perché? 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 Perché ho sentito questo rumore? Cos'era? Cos'era? Sarai morto. Io sono il pupazzo di neve. Dio. Cosa? Ma perché? Cosa? Grazie a tutti.